Favorire il reinserimento lavorativo, l'occupazione stabile e la creazione di attività autonome, questi sono gli obiettivi di un avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro Rosa Mastrosimone. Il bando, finanziato con circa 2,5 milioni di euro dal programma operativo FSE 2007-2013 e con 1,1 milioni di euro dall'azione di sistema Welfare to Work del Ministero del Lavoro, all'obiettivo di consolidare il lavoro dipendente e di incentivare all'autoimpiego i lavoratori in mobilità in deroga attraverso la concessione annuale di incentivi economici sul costo lordo del lavoro. Ogni azienda, ha spiegato l'assessore Mastrosimone, percepirà un incentivo annuale dalla Regione relativo al 50% del costo salariale lordo per un importo massimo di 10.000 euro nel momento in cui assumerà lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, ha concluso la Mastrosimone, saranno erogati bonus per l'autoimpiego e per la creazione di impresa per una somma massima di 15.000 euro.